Amici di BioBlu, ieri ho pubblicato insieme a un mio follower, Nicola Trevisanna, un post sulla zuppa di porro. Come voi sapete non posso più pubblicare sui cartacei, ma insomma non importa, la rete resta sempre ancora disponibile, almeno speriamo che duri così. Che cosa riguardava questo post? I dati sulla variante Delta. Voi non trovate questi dati sui giornali, non ne parlano le televisioni, ne parlerà oggi BioBlu. Che cosa dicono questi dati? Che voi trovate, ripeto, documentati tutti nella zuppa di porro, non è stato ancora censurato, siamo arrivati alle 100.000 visualizzazioni, mi dicono, e non è ancora stato rimosso. Perché poi è difficile, perché che cosa facciamo con Trevisanna? In sostanza riprendiamo un documento pubblicato dal Ministero della Salute e del governo inglese, quindi insomma se cancellano noi dovrebbero cancellare addirittura il governo inglese. Tutto è possibile, ma insomma. Cosa fanno? Cioè gli inglesi ovviamente riflettono, cioè noi non possiamo più riflettere in Italia, perché sappiamo già i contagi, il numero dei morti, i contagi, chiusure e adesso vaccinazione obbligatoria eccetera eccetera. Però non c'è una riflessione. Che cosa sostanzialmente fanno gli inglesi? Fanno un'analisi sulla variante Delta. E questa analisi riguarda il periodo compreso dal primo febbraio del 2021 al 21 giugno del 2021. Così è riportato. Voi se andate sulla zuppa di poro avete tutto il documento integrale. Noi abbiamo poi riportato alcuni dati, ma chi vuole può leggersi tutto il documento che sono 60 pagine. Ora a farla breve noi riportiamo diverse tabelle. C'è però un'ultima tabella che insomma ci sembra particolarmente significativa. La tabella riguarda il numero dei decessi totali. Attenzione, niente allarmismo della varianta Delta. In questo periodo sono morti 117 persone e quindi vuol dire che insomma non è così letale, particolarmente letale questa variante, per fortuna. Però consideriamo un attimo i dati di questi morti. Allora, 117. Teniamo presente che purtroppo su tre casi non sono ben classificati e quindi non si capisce bene come inserirli. Ma comunque dei dati che noi abbiamo è che 49, scusate 44, 44 decessi sono decessi di individui non vaccinati. Non erano vaccinati contro la malattia, il 44, mentre 70 decessi si tratta di persone che erano vaccinate e il 70% di questi. Addirittura con la seconda dose, perché alcuni dicono che era solo la prima. No, addirittura con la seconda. Quindi una vaccinazione completa. Cosa risulta da questi dati? Scusate, sono numeri. Ovviamente uno può dire che anche i numeri vanno interpretati. Sicuramente, magari noi diamo un'interpretazione sbagliata, però i numeri che cosa dicono? Che di questa variante sono morti di più quelli che erano vaccinati dei non vaccinati. Ora, è evidente che una notizia come questa, ripeto, i numeri poi possono essere interpretati come volete, ma i numeri sono questi. Voi potete anche andare a vedere proprio la tabella, noi le abbiamo riportate così, ma la tabella del governo inglese. Quindi non sono nostre estrapolazioni questi numeri. I numeri sono così riportati dalla tabella inglese. E cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, probabilmente questo vaccino non è così efficace contro quella determinata variante. Questo mi sembra un dato abbastanza inconfutabile. E il fatto che, altra situazione che adesso non analizziamo, però è sotto gli occhi di tutti, i contagi stanno crescendo moltissimo in Gran Bretagna, e ciò vuol dire che questa vaccinazione non ha avuto l'esito sperato. Perché? Perché l'idea era vacciniamo per diminuire i contagi. No? E quindi questo non è successo. O sbaglio? O vogliamo negare anche questo? E il risultato di questa tutta analisi qual è? Dei governi, di Macron e di noi che forse vorremmo invitarlo? Vabbè, facciamo la vaccinazione forzata. Non so se vi rendete conto. Una vaccinazione, che? Cioè, quelli che sono vaccinati muoiono di più dei non vaccinati, no? E vaccinando così aumentano il numero dei contagi molto di più di quando non c'erano i vaccini. Ma allora voglio dire, non c'è qualcosa che non funziona? Non dovremmo cambiare forse modo di pensare, modo di ragionare, avere un'altra narrazione rispetto a quella che ci troviamo tutti i giorni su questi giornali e sui grandi mezzi di informazione? Ecco, l'unica mia consolazione è che un post è brevissimo, fatto di grafici, con pochissime parole aggiunte abbia raggiunto le 100.000 visualizzazioni. Lo toglieranno probabilmente, cercate di leggerlo prima che sia troppo tardi, e fatevi girare qualche rotella in testa. Grazie.